Facendo il Capture the Flag, volevo dire che cuspidiani crudisti uberalless di S.H.I.E.L.D. e S.U.C.A.N.O. E basta. Allora, cominciamo con questo talk. Allora, noi parliamo con una panda in New Development Attitude, in Unix van di moda i nomi ricorsivi, e quindi abbiamo utilizzato... Non potevamo ovviamente essere da meno. Non potevamo essere da meno. Si sono scritti tanti libri su come fare software come Dio comanda, e allora anche noi abbiamo dato il nostro contributo. Partendo da un progetto che ci siamo trovati a sviluppare per un nostro cliente, e adesso vi spieghiamo come abbiamo approcciato e quali sono state le soluzioni vincenti, effettivamente, per sviluppare e gestire questo progetto. Allora, il progetto è un e-commerce, di cose voodoo e tendenzialmente piratesche. Cose mai viste. Esattamente. E il cliente è venuto da noi, voleva vendere queste cose. Chiaramente noi abbiamo coinvolto il reparto marketing, il nome era stato abbastanza scelto dal cliente, anche perché LeChak era il nome del cliente. E la tagline è stata estremamente divertente. Prova a dirla. Il marketing ci ha voluto bene quando ci ha messo How much would, could, would chuck chuck, if, would chuck, could chuck wood. Grande, ci sono anche riuscito, tra l'altro. Per il logo ce l'hanno copiato dopo. Esattamente. Questo è il comitente, siamo riusciti a fargli una foto, ovviamente, durante una delle riunioni, la bambolina che vedete era lui, ovviamente. Eh sì, il pirata LeChak. Esattamente. Ok, il cliente è venuto da noi, cominciamo il progetto. Allora, il cliente ha cominciato con delle grandissime aspettative, quando uno vuole fare i suoi shop, vuole farlo bene, e un amico gli ha subito detto, beh, costa un cazzo. D'altronde, gli shop ci sono e costa un poco. Esattamente. E quindi lui parte con le sue grandissime aspettative di spendere veramente poco. Voleva un sacco di cose, voleva un sacco di cose, voleva cose tipo un carrello, roba del genere. Chiaramente, ovviamente però, la cosa brutta è stata che aveva il cugino che glielo faceva, l'amico che gli diceva che costava poco, quindi vabbè, noi ovviamente... Costiamo poco. Il commerciale ha detto, vabbè, abbiamo pochi soldi, ragioniamo sui tempi, nessun problema, facciamo anche tempi stretti, al di là della complessità del progetto. È giusto che il commerciale, soprattutto quando conosce il business, decide i tempi. Esattamente. È fondamentale. Esatto, lì concorda con il cliente. Sennò si rischia di andare avanti. Ok. E quindi, niente. Prendiamo il team. Il team, naturalmente, cacchio, stai facendo un e-shop nel 2016, quella roba nuovissima. Cioè, chi di voi non ha mai sentito parlare di LeChak, tu puoi andare a dire, io ho lavorato per l'e-commerce di LeChak. E quindi, ovviamente, basta il prestigio. Un feedback su LinkedIn. Esatto. LeChak avrebbe detto che avremmo potuto bullarci di questa cosa, quindi mettiamo, tranquillamente che possiamo dire di aver lavorato per lui. Però, naturalmente, si utilizzano soluzioni enterprise, quindi se non si paga poco il programmatore, possiamo sempre utilizzare del software, tipo dei database a 100.000 euro. Esattamente. È la scelta più matura, anche perché comunque fa più enterprise. Quando dopo lui va a parlare per farci finanziare, dico, l'ha fatto con software enterprise. Esattamente. E c'è la disposizione anche Murray come referente. Se qualcuno conosce. Si poteva chiedere tutto tranquillamente a Murray, che era un simpaticone, sorride sempre, come avete visto. Quindi sì, si poteva interagire agibilmente. E quindi, partiamo con l'analisi. Esatto. Allora, prima di tutto, come vedete, poche domande e meno risposte. Nel senso che il cliente, nella maggior parte dei casi, non sapeva cosa fare. Era impegnato a giocare. Perché domandarglielo. Esattamente. Quindi... Siamo noi dev, quindi possiamo dargli una forte mano. Esattamente. Ovviamente, finché facciamo l'analisi, la cosa migliore è ascoltare tutte le possibili sfumature. Parliamo in italiano, in inglese, mescoliamo termini. La stessa cosa può essere definita in cento modi diversi, perché del resto ci sono un sacco di sfumature diverse per un prodotto. Quindi, effettivamente, confondiamoci. Vogliamo cogliere le tue. Usiamone tantissimo. Esatto. Esattamente. Poi abbiamo visto che... Il cliente non dava tante domande. Andiamo sul referente. Ok. Il referente, ovviamente, non è chi paga. Non è chi paga. Quindi, ovviamente, prendeva nessuna decisione. Non conosceva il business. Non conosceva i processi interni. e quindi, ok, allora la situazione cominciava a diventare tragica. E allora la scelta più motura siamo andati sulla letteratura. Abbiamo visto che ci sono dei metodi di sviluppo che sono rodati. Hanno un sacco di anni in cui vengono utilizzati. Waterfall. Waterfall. Funziona. È la maniera migliore di... L'hanno usato in tanti. Esatto. Cioè, hai l'analisi dei requisiti, hai lo sviluppo, hai il testing, hai il goal. è perfetto. Si fa. Si fa. Del resto, effettivamente, abbiamo detto, se funziona per i tessi, funzionerà anche per lo sviluppo. Funzionerà anche per lo sviluppo. Quindi, chiaramente, non è un problema. Ovviamente, mi raccomando, meetings. Meetings. Tanti meetings. No, bisogna parlare. Bisogna decidere di cosa parlare per la prossima riunione. Anche perché, effettivamente, cioè, come abbiamo visto prima, se non ti danno... alle domande non ti danno risposte, ovviamente, cosa bisogna fare? Bisogna stargli sotto. Bisogna attarmarli. Bisogna parlarci ogni volta. Quindi, se loro non vogliono dare risposte, noi dobbiamo fare l'esatto contrario. Avere risposte su tutto. Decidere tutto ancora prima di cominciare. Ciaro. Quindi, meetings, meetings, meetings. E quindi, praticamente, a tutto punto, abbiamo parlato anche con i nostri programmatori perché finalmente li abbiamo coinvolti dopo che abbiamo deciso del deadline. Ogni programmatore gli piace fare le cose in maniera diversa. Conosciamo tanti linguaggi che hanno tante librerie. Cerchiamo di utilizzarli tutti. Poi ti ricordi, c'era quello bravo, c'era quello bravo in un linguaggio, c'era quello bravo in un altro linguaggio che conosceva meglio altre librerie. Falli lavorare contenti. Esatto. Sfruttiamo le cavoli potenzialità. Esattamente. Quindi, mescoliamoli. Mescoliamoli perché, insomma, dai, è bello, si studiano un sacco di cose nuove. In più, poi è arrivato il buon Lechak a cui abbiamo sottoposto la nostra analisi. E lui, naturalmente, è un genio e ha detto cosa bisogna fare. Cosa ne pensava. E cliente, quindi sì. Ovviamente, sì. vedete il commerciale che è là che gli dice assolutamente sì. si può fare. Esattamente. E vabbè. Ok. Allora, al di là degli scherzi vediamo un po' delle cose utili che ci sono, degli pattern che ci sono stati utili. Il primo che abbiamo applicato e che si trova molto in letteratura è il design by committee. Cioè, effettivamente, tu fai un progetto per un'azienda. Un'azienda è composta di tante persone. Non c'è solo chi ti commissiona, chi ha bisogno di quella funzionalità. Ognuno ha il diritto di dirla sua perché viene rappresentato nell'azienda. Ti ricordi quando abbiamo chiesto al fattorino se gli piaceva il colore? Beh, una bomba. Cioè, ha dato dei consigli utilissimi. Anche su Amorosa. Anche Amorosa, esatto. Quindi, ascoltate l'opinione di tutti perché è importante che users è della gente che sì, però, cioè, sono due contro venti se l'azienda è grande, due contro cento. Ascoltiamoli tutti che è una buona idea. Altra cosa, tu sei là che fai i meetings, meetings, meetings della slide soprastante. Ovviamente, vengono fuori a seguirne una. Cerchiamo tutte, cerchiamo di metterle tutte sul piatto e di non provarne una perché ovviamente stiamo là, le guardiamo tutte, è bellissimo. Tu stai là come il gatto quando ti viene la macchina davanti, guardi tutte queste soluzioni e vedrai che è positivo. Insomma, è come quando vai con gli amici a mangiare la pizza e ognuno propone un locale diverso. Esattamente, esattamente. E poi finisci che torni a casa. Ok. Si avvertì con lo sviluppo. Abbiamo fatto una foto di gruppo del team, in effetti. Esatto. Eccolo qua. Bene. Allora, analisi ne abbiamo fatta. Si, perse ore. Ovviamente Waterfall nell'analisi dei requisiti produce moltissima documentazione e il cliente ha più senso sentirlo? Dopo. Dopo. Esattamente. Quindi non si va a parlare con il cliente. Però poi ci ha telefonato. Ci ha telefonato. Ho preso io la telefonata, cioè tu dovevi sentirlo. E non l'aveva ancora pagato? Eh, non l'aveva ancora pagato. Cioè lui ha due giorni dalla deadline, ha cominciato a dire un po' la sua. Allora io ho detto, vabbè, senti, nessun problema, scusaci, noi eravamo impegnati a sviluppare, avevamo già deciso tutto. Nessun problema, guarda, da domani, scusami, facciamo così, tu mi puoi contattare in qualunque momento, puoi scrivermi su WhatsApp, puoi scrivermi su Facebook, chiama anche lui, manda anche delle mail. Cioè, l'idea è, o non usate nessun canale di 2D per parlare con il cliente, oppure usateli tutti, indistintamente, senza nessun problema. Anche perché nel 2016 ne abbiamo tanti, cioè, siamo negli anni 80. Esatto, io aspettavo solo il piccione viaggiatore, dopo quello li abbiamo fatti tutti. E poi è arrivato le Chuck, che parlando, ci ha detto che sull'internet, ha letto che c'è Agile, Agile e Scrum. Cavole, bravo, perché se l'è andato a vedere, funziona benissimo. Trovarne dei clienti così. E poi lo puoi anche mettere sulla referenza su LinkedIn, no? Quindi, ho fatto un progetto Agile con le Chuck. Esatto. E quindi, niente, abbiamo deciso di utilizzare... Mario era molto contento, lo vedete. Agile e Scrum, che se avete provato a andarli a leggere, sono tanti libri, però c'è Agile, ben una pagina, Scrum, bene o male, in 20 pagine si riassume, e le cose le spiegano, ma... Quindi? Il cliente le ha lette meglio di noi. Ovviamente. Quindi ne ha subito parlato col commerciale, perché in questo caso... Bisognava vedere, certamente. Il commerciale ovviamente ha fatto sì sì con la testa, e ha detto, nè ma problema, e quindi via con Agile. Via con Agile. Allora, il cliente ha deciso che allora, da lui ci saranno tre PO, tre Scrum Master. Da lui però. Tutti da lui però. Ovviamente. Di fatto che, sì, effettivamente Scrum saranno quelle 20 pagine che dicevi poc'anzi, però di fatto sono linee guida. Sì, non regole. Non regole, quindi vabbè, cioè tu le tieni presente, però poi interpretala, vedi, giocatela insomma. Chiaro. Anche perché Agile è Agile. Chiaro. Agile cambia. Cambia. È Agile. Il cliente, come al solito, ha ragione, e quindi praticamente, cioè, si parla di questi sprint, ma cos'è uno sprint? Cioè, è da AA, cioè, puoi cambiare idea durante, cioè, se uno gli viene un'idea migliore... Non posso aspettare la fine del sprint per vedere questa nuova funzionalità, cioè, per me è fondamentale. Se c'è un'idea migliore, implementala subito. Assolutamente, assolutamente. E, beh, ha funzionato. Sì, sì, è stata positiva. E quindi, vabbè, abbiamo spiegato tempo. Esatto, sì, anche perché poi cominciamo sempre ad andare vicini, perdere tempo a fare retrospettive. Tanto, alla fine, ognuno lavorava, ognuno sapeva il suo linguaggio, che senso aveva andare a fare retrospettive e ragionare assieme. Abbiamo spiegato tempo. E poi, abbiamo il team leader PO, cliente illuminato. Esatto. Una netta separazione delle responsabilità è fondamentale. Perché il cliente era un esperto UI e sapeva come si programma, perché il suo amico gli ha spiegato come si fanno le cose. Poi, vabbè, è un e-shop e quindi, praticamente, niente, lui poteva far tutto e non puoi dirgli di no e quindi ci siamo trovati che lui ha messo le idee e noi abbiamo messo la responsabilità. Uno al potere, uno alla colpa. Cioè, scusate, la responsabilità, non la colpa. Ok. Arriviamo sul team che è una parte fondamentale per lo sviluppo, cioè più o meno quello che fa il lavoro. Questo è un po' come abbiamo approcciato la costruzione del team, al di là degli esperti ciascuno nelle rispettive competenze. Esatto. Abbiamo visto che il software è modulare perché il team non può essere modulare, quindi. Quindi, effettivamente, possibilmente è meglio tenerli separati, lavorare per silos, ognuno nel suo, non andare a mescolare, anche perché poi, effettivamente, di fatto, sono pagati per battere tasti. Poi fanno domande, domande. Sì, ma a chi gli risponde? Ma al re tanto non rispondeva. Tu rispondevi? No, ovviamente. Fare l'oro. E quindi, effettivamente, siamo trovati anche con qualcuno di bravo. Sì, perché comunque, dentro ogni dev c'è un genio. Quindi, ogni tanto, a uno gli veniva in mente, facciamo qualcosa di nuovo, aggiungiamo cose, ma non discutiamolo, non documentiamolo. Tanto, sono un genio, quindi gli altri lo prenderanno per buono. e quindi abbiamo incentivato il fatto che qualcuno potesse esprimere la sua genialità. Esattamente, senza metterla in discussione, perché poi la discussione, ora, intanto siamo compartimentalizzati, ognuno lavora nel suo. Poi, vai tu a dirgli a un altro, guarda, sto facendo una funzionalità, si innesca una discussione che magari, dopo va a mettere in discussione anche altre parti del progetto, miglioramenti, no, ormai, hai fatto, dai, finiamola così, come sta. Poi stiamo risparmendo delle review, quindi. Esattamente. documentare. Chi di voi ha mai documentato qualcosa? Eh. O, ancora meglio, chi ha mai letto i documenti? Esatto. Per esempio. Allora, tanto vale non farli. Anche perché cambiano per definizione, quindi a questo punto neanche tempo di scriverli, sono già cambiati, quindi, poi, se ne parliamo tanto, ci resta anche impresso, quindi non serve effettivamente andare a, cioè, lo sappiamo. Si, poi, e già, dice che meno documentazione più altre cose, quindi. Esatto. Esattamente. e soprattutto quando si lavora in compartimenti stagni, se vedi un problema, non è un problema tuo. Cioè, o è tuo e lo risolvi, ovviamente in autonomia, giustamente. O è di qualcun altro. E se è di qualcun altro, cioè, non glielo dire, probabilmente, là ci sta già lavorando, non lo so. Esatto. E, alla meglio, gli puoi sempre dare. Se ti capita, puoi passare mezza giornata e porconarci dietro, perché è colpa sua. Esattamente. Bisogna sempre puntare il dito su chi sbaglia. Ovviamente. così uno si autoresponsabilizza. Esattamente. Poi è successo qualcosa. Qualcuno, qualcuno effettivamente un po' si è allontanato del team. Sì, ma io penso che il turnover sia positivo. Positivo, perché comunque tante persone si conoscono, si parlano, e come lo spiegati. Ci parlano? No, 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 si sono parlati, non dovevano parlarsi. Eh beh, è vero. Ah, infatti, quindi, ok, quindi, effettivamente è bello, ogni tanto tu metti qualcuno, magari qualcuno che non ha neanche mai visto il progetto, effettivamente ti può dare una diversità di vedute. Chiaro. Quindi può rienterpretare un po', insomma, rivisitare il codice, vedere, eccetera. Testa. direi che questa si commenta da sola, oggettivamente, quindi non spendiamo molto. Anche questa in effetti. Ok, a certo punto, quando si sviluppa in tante persone, si pensa sempre a queste nuove metodologie, tipo Git, SVN, e delle volte bisogna pensare anche al deploy, perché magari dopo bisogna metterlo online, farlo vedere al cliente. Esatto. E quindi, cioè, ci siamo scontrati su queste problematiche. Esatto, adesso vi spieghiamo come l'abbiamo, come l'abbiamo risolto. Questa era un po' la nostra espressione, in effetti. Allora. Una figata. Una figata. Cioè. No, la scelta più matura, inizialmente, è stata Dropbox. Perché, allora, tu puoi passarti il codice, ma mentre passi il codice, puoi scaricarti anche le foto. Si può, assolutamente si carica, esatto. Cioè, è come una cartella, ma è condivisa su di tutti. Esatto. E ci sono anche le foto, e poi c'è anche client per il cellulare. Esatto. Quindi, magari finché si caricano le foto, vedi cosa ha fatto lui durante la grigliata, cose del genere. Ha funzionato. Poi ti tiene anche le revisioni, cioè non è massimo. Esatto. È malissimo. L'unica cosa è che, caro, abbiamo provato a usare Git, però c'era quella cartella appunto Git, che se la toglievi funzionava allo stesso progetto. Eppure occupava un sacco di spazio. Cazzo che occupava spazio. E quindi no. Poi un mio amico mi ha parlato di branch. No. No. Ok. A certo punto. Bisognava caricare un po' l'applicazione. Sì. Abbiamo chiesto ai nostri consulenti senior. Molto senior in effetti. Ed FTP funziona, ragazzi. Sono 30 anni che usiamo FTP e non si è mai rotto. Deve essere stato lo stesso che ci ha suggerito Waterfall comunque. Esatto. E quindi niente. FTP è stata la scelta più matura comunque per gestire il deploy barra qualsiasi cosa. Esattamente. Anche perché comunque poi effettivamente se... Proprio metterci le mani. Esatto. Metti che hai un Outfix, vai via SSH. E utilizzi o Nano o Vim. Esatto. È così. Ovviamente vi do un consiglio. Non mescolate. Ti ricordi quando abbiamo mescolato, avevamo provato a deployare direttamente con Git. Ah sì sì. Modificavi il codice. Quindi non usavo... No, no. Abbiamo provato a deployare con Git. Ah ok. Andiamo più veloce. Abbiamo provato a deployare con Git. È stato difficile perché poi quando mi ha chiesto di immergiare le cose, ok 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 commit push pull, e ci ha riempito tutti i file di maggiore 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 degli di robe stranissime. Ed dappertutto. Non è fatto per quello. Infatti. Quindi via. In merito alle macchine, anche la risparmiamo, abbiamo risparmiato qualcosina. Un'unica macchina fisica. Un'unica macchina fisica. Così tranquillamente. Un unico, tu sei in pullman, puoi guardarti le foto, controllare le modifiche del codice e anche la macchina accede a una sola ed è tutto in una ovviamente. È quella. Comodissima, comodissima. Comodissima, cioè non... E i pattern che abbiamo, i pattern che abbiamo visto durante lo sviluppo sono due, sono fondamentali. Il primo è reinventing the wheel, cioè nel senso quando fai un e-commerce ed è... Sei un innovatore in un certo senso. Sì, nel 2016 non se ne sono ancora visti, quindi devi inventare le cose. Va bene inventarle. Cioè non cercate soluzioni di altri perché non ne troverete. Esattamente. O meglio, attenzione... Se ci sono soluzioni degli altri. Se ci sono soluzioni degli altri, effettivamente non hanno capito di cosa avevamo bisogno. Per cui effettivamente è meglio se tu migliori qualcosa e se nel migliori ci metti anche del tuo, tipo qualche bug. Perché effettivamente è più divertente così uno che lo prende, lo utilizza e vede... I nostri dev sono fortissimi. Esattamente. Quindi migliorare, migliorare, migliorare. E arriviamo finalmente alla deadline. E qua è stato un brutto quarto d'ora. Sì. Perché a questo punto bisognava mettere sui server le cose. Esatto. Il commerciale ovviamente aveva deciso per cui poco da fare. Ovviamente noi siamo agile. Tiro sul microfono. Eccoci. Esatto. Noi siamo agile, quindi ovviamente siamo andati un po' stretti e quindi la cosa migliore è aumentiamo la forza lavoro. Esatto. E abbiamo visto che ci sono dei siti bellissimi, tipo Mechanical Turk. Puoi chiamare della gente da altri continenti che fanno le cose. Perché fare software e fare la pizza non è tanto diverso. Solo che la pizza dall'India è più lunga da deliverare. Esatto. Quindi costa. Esatto. Quindi per questo software si può fare. Esatto. Quindi assolutamente abbiamo assunto un po' di gente. Abbiamo assunto un po' di gente anche assolutamente junior sul progetto. Perché ovviamente poteva darci anche... Dovevamo vedere come era fatto un bel progetto. Spazio giovani. Esattamente. Quindi anche qua ottime soluzioni possono essere come pattern deathmarch. Quindi ovviamente ragazzi le deadlines sono deadlines, c'è poco da fare. Ovviamente se abbiamo sottostimato non è un problema, i dev non devono fare domande. E posso anche non dormire quella notte là. Assolutamente quelle notte, quelle settimane là. Ma va bene, non è un problema. E arriviamo ad oggi. Io ti Red Bull toda la vita e comunque. Bene. Il progetto è finito. E oggi praticamente ogni tanto il cliente magari ha pagato. Quindi è già un'ottima cosa. Esattamente. E ha smesso di essere il nostro problema. Cioè... Quando abbiamo visto il bonifico basta, abbiamo risolto. Siamo tutti felicissimi. Ogni tanto capita che chiami. O lui o Murray. Ma ovviamente tu lo chiami. C'è chi? Scusa. Non ho presente. Non ti sento. Non ti sento. Non ti sento. Ignoriamolo. Ignoriamolo. Ok. Qualche dev ha deciso di andare. Non abbiamo capito perché. Perché siccome era un ottimo ambiente in lavoro. Era silenzioso. Non si facevano riunioni. Gli hanno messo le referenze su LinkedIn, su Facebook, su Pinterest. Secondo me ha preso le referenze e se n'è andato. Sì. E bastava quello. Cani. Cani. Ok. Se ci vuole qualcosa, vabbè, che paghi, troveremo qualcuno. Noi per definizione non parliamo con la gente che ha lavorato sul progetto. No. Perché non è corretto. Non è corretto. No, perché ci ha lavorato. Basta. Sono dei juda. Sono dei traditori. E quindi abbiamo deciso di... Ignorarli. Ignorarli. E non ci servono più. E non contattarli più. È andata bene. Bene. Domande? Fatto il mirato terrestro. No, ok. Allora, scherzi a parte. Noi abbiamo fatto una presentazione assolutamente... Volevo dire semiseria, ma assolutamente poco seria. Credo che tutti un po'... Ovviamente sparo non con tutte queste dinamiche, ma esperienze di questo tipo ce ne sono state. Le abbiamo passate anche noi e le facciamo tutti. Se voi guardate online trovate un sacco di documentazione su quelli che sono gli antipattern. generalmente a livello di codice, ma sono molto utili, secondo me, sia che noi siamo o sviluppatori o commerciali o product owner, vedere quante volte rischiamo di incorrere su dinamiche che sono effettivamente portatrici di cattiva gestione. Quindi se vedete una cosa di queste, preoccupatevi. Esatto. Ok? Basta. Grazie. Grazie.